a Firenze. Il Corredo di San Marco poi è stato disperso, ce ne sono anche al Bargello, in raccolte private, vedete addirittura anche andate all'asta. Una coppia dal 48 è nel Museo di Faenza e da notare, qui ho messo così anche solo come riferimento iconografico, il fatto che in alcuni casi, come ad esempio il volto della Santa Caterina, perché sapete che sono a porte nei medaglioni con Santa Antonino e Santa Caterina, dicevo si colgono delle affinità stilistiche, specialmente questi segni di espressione, questi tagli quasi del volto della Santa che richiama un po' stilisticamente anche la targa, il pittore della targa Bartolomei. Dalle miglia passiamo alla vicina Liguria, ecco a Genova, troviamo ceramiche, un bel nucleo di ceramiche di Montelupo nell'ospedale di San Martino che proviene, provengono da diverse eredità e che conosciamo attraverso il catalogo di Lucatini che è del 1975. Di Montelupo dicevo 17 pezzi che vengono però dall'eredità frugone del 36 e qui rappresentano un tipico repertorio montelupino, la palmetta persiana, la porcellana, ecco interessante per esempio la foglia cartocciata di un orciolo che ho messo accanto ad un identico orciolo dello stesso complesso del museo di Faenza, della donazione Cora che però porta la data 1561. E poi ancora un albarello, quello per esempio con l'emblema della colonna che abbiamo già visto prima, ecco e poi un boccale con il volto compendiato di quella tipologia che qualcuno attribuisce a Montelupo. Ancora la Genova, la collezione Doria Panfili che come vedete conserva tre arlecchini. Scendendo in Toscana io lascio per fortuna le raccolte fiorentine a Marino Marini che avrà uno specifico spazio di intervento e mentre ci fermiamo a Pistoia. Pistoia è costituito diciamo su collezioni di fondi nettamente differenziati per provenienza, ecco tra queste collezioni c'è da segnalare un bel nucleo qui di Montelupo, un boccale compendiario, una coppia degli albarelli alla foglia blu, a spirali verdi, a foglia verde, mentre per il Settecento vediamo un catino a paesino, poi anche una serie di boccali da mensa molto interessanti a cerchiatura segmentata, mazzetto policromo con corolle che sono confrontabili con altri del Museo di Montelupo. Passiamo ad Arezzo, nel Museo Medievale Moderno che si è formata sulla raccolta della Fraternita dei Laici, le maioliche però, chi ha potuto consultare il catalogo, provengono prevalentemente dalla donazione di Vincenzo Funghini, dell'Arettino, ingegnere, architetto, letterato, archeologo. La collezione è veramente cospicua di maioliche italiane, sono 383, bene 15 di Montelupo, note grazie al catalogo di Fuchs. Ecco però io non voglio perdere occasione qui di soffermarmi almeno su uno degli esempi più alti. Un grande bacile, andiamo avanti, ecco un grande bacile figurato con il passaggio del Mar Rosso. Ecco l'opera porta uno stemma che è una condizione molto rara perché, come noto, le maioliche istoriate, intendo istoriate, non le altre produzioni medice, insomma, di Montelupo stemmati sono quasi inesistenti. A riprova dunque del fatto che a differenza di Urbino, di Faenza, Montelupo non si era inserito in certi canali di committenza altolocata, parlo sempre per l'istoriato, ma preferiva affacciarsi ad un mercato aperto con prodotti da smerciare anche all'occorrenza, anche a vasto raggio attraverso veramente tanti traffici fluviali e marittimi. Dunque questo diarezzo però acquista oggi maggiore valore perché lo possiamo porre in relazione araldica con un altro pezzo istoriato, una coppa che si conserva nelle raccolte di Coburg e che posso farvi conoscere grazie all'amica Giovanna Lesman. In entrambi vediamo lo scudo, uno scudo ovale, sormontato dalla mitra vescovile, con tipici ornamenti ecclesiastici, le due infule disposte ai lati, forse dunque quello che rimane di una prestigiosa credenza. In un primo momento avevamo ipotizzato che si trattasse di un esponente, di un componente della famiglia Brunelleschi, della quale comunque la documentazione risulta ridotta a pochi personaggi, di scarso lievo e nessun prelato. Mi sono dunque confrontata con Marco Spalanzani e che mi ha aperto nuove ipotesi, ipotesi di studio più promettenti. Scartata la famiglia Brunelleschi, ecco che rimanendo in Toscana emerge la famiglia, potente famiglia Guidiccioni di Lucca, Chianovaron Cardinale e diversi, molti vescovi. Tra i papabili, su cui quindi converrà a lavorare in futuro, c'è Alessandro Guidiccioni, che fu vescovo di Aiaccio, nunzio apostolico in Francia e vescovo di Lucca fino al 1600. Nella collezione Chigi Saracini, ecco la senese Chigi Saracini, composta da Galgano Saracini nel suo palazzo già nel 1700, c'è un catalogo integrale e qui si conserva, come vedete, che è un campione di istoriato, ma con Manua e la moglie a cui viene annunciato che avranno un figlio Sansone. Ecco, nella stessa raccolta senese però sono presenti inoltre una coppia di albarelli decorati a Raffaele Esche, il cui valore documentario sta nel fatto che portano delle date precise 1618 e 1622. Passiamo nelle Marche, nell'antica raccolta mazza, oggi Musei Civici di Pesaro, ricchissima di storiati di altre aree italiane, bene attribuibile a Montelupo c'è un albarello a Raffaele Esche, credo un po' databile all'incirca quelli che abbiamo visto della Chigi Saracini. Nella Pinacoteca di Ascoli notiamo 5 arlecchini, vi segnalo 5 arlecchini entrati nel 1920 con il legato Antonio Ceci e sono stati naturalmente inclusi nel nostro repertorio sul figurato e sono tutti di tipologia abbastanza tarde. Da segnalare inoltre una fiasca decorata con una fascia graticcio che è di una singolare foggia naturalistica, a zucca, vedete, abbastanza singolare e poi un piatto, ecco interessante il piatto Medicio su cui campeggia a piena superficie lo tema dei Medici che trova, vedete, un interessante elemento di raffronto analogico in un documento che è molto più significativo se si considera che porta la scritta a chiari caratteri Montelupo e si trova a Sevres. Passando all'Umbria andiamo a Torgiano nel Museo del Vino istituito da Grazia Lungarotti nel 1974, ecco Montelupo è rappresentato da degli albarelli a blu graffito, a raffaele lesche, a foglia policroma, c'è un grande orcio da vinsanto, una destinazione che è palesata anche nella veste appunto decorativa con questi pampini e grandi foglie, opera che Fiocco e Gerardi attribuiscono a Caffagiolo o a Montelupo ma Berti invece lo attribuisce a officine montelupine. Nel Lazio, partiamo partendo da Roma, c'è da segnalare soprattutto la presenza cospicua di un nucleo di Montelupo a Palazzo Venezia che è un grande museo nazionale d'arte medievale rinascimentale, grazie, che è nato nel 1916. Molti sono i vasellami di Montelupo ma sono stati in gran parte pubblicati da Berti nei suoi volumi e si tratta di vasellami a foglia blu, a foglia policroma, girali fogliate e così via. Ma tra tutti ecco si impongono questi grandi orci della farmacia del re databili al 1590-1610 confrontabili con altri precedenti della farmacia dei Santi Medici che si appartano precisamente al 1575. Molto significativa è la presenza degli Arlecchini con cavalieri, fanti, spadaccini e anche delle scene di genere tra cui il gioco del bracciale, il gioco del pallone col bracciale che si pratica ancora oggi a Faenza nello Sferisterio. È un genere che grazie alla sua autonomia espressiva sviluppata dai maiolicari di Montelupo su dei filoni tematici che erano comuni anche ad altri centri italiani perché di questi personaggi a tutto campo venivano prodotti per esempio anche a Deruta, venivano prodotti anche a Venezia. Ed una loro sviluppata capacità di sintesi formale e cromatica efficacissima proprio di sicuro impatto che li portò a serializzare questo prodotto abbassandone i costi e arrivando ad ampi strati di clientela. A Palazzo di Venezia inoltre sono confluiti quelli che una parte erano nel Museo Artistico Industriale fondato nel 1872 ma sbembrato e in parte depositato a Palazzo Barberini e di Montelupo segnalo un raro campione in azzurro prevalente con un cane sul fondo da maschino e un vaso bianzato da farmacia in blu graffito. Ancora Roma, vedete sulla vostra destra, devo la segnalazione a Luca Pesante di due orci bianzati inediti presso l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Sono dipinti a foglia blu di uno dei generi decorativi più prosperi delle botteghe di Montelupo che adottano soprattutto per la produzione farmaceutica con cui intorno alla metà realizzano cospicui fornimenti da farmacia. Il cartiglio vedete ha un epigrafo e così questo consentiva, dava libertà allo speziale di apporre l'indicazione direttamente sullo smalto con la china oppure di apporre un'etichetta incollare, un'etichetta cartacea. La loro rarità comunque consiste proprio nella marca dipinta nel punto dell'attacco inferiore dei manici, è una M che mi pare che tra i marchi ad iniziali catalogati da Fausto risulti essere una marca piuttosto rara e poco rappresentata. Accanto ho messo due vasi analoghi del museo di Faenza. Rimanendo nel Lazio a Cerveteri e nel museo, andiamo pure avanti, nella Tuscia, a Viterbo, Montelupo documentato grazie all'attività di recupero praticata sul territorio. Così anche in Campania, in scavi nella zona di Sorrento, ma non voglio però allargare l'esame adesso ai materiali di Montelupo che sono frutto di recuperi territoriali da parte dell'archeologia perché davvero l'argomento si amplierebbe a dismisura. A Napoli tuttavia però vanno segnalate due significative raccolte di maioliche italiane dove non mancano maioliche di Montelupo, cioè il museo di Duca di Martina alla Floridiana e Capo di Monte. Il ridotto nucleo di Duca di Martina è noto grazie al catalogo di Luciano Arbace e qui vedete si tratta di due piatti di un albarello bianciato decorati a nodo orientale voluto. Più ricca e interessante invece è la collezione di Mario De Ciccio a Capodimonte che era un antiquario, un collezionista che nel 1958 donò 1300 opere d'arte tra le quali anche un'importante collezione di maioliche. Sono presenti i 15 campioni di Montelupo dal 400 al 600 a partire vedete da un albarello pseudocufico fino ad arrivare ad alcune zaffere e a palmette persiane che oltretutto notate due albarello e palmette persiana con lo stesso emblema quindi dello stesso complesso farmaceutico. Però vado andiamo avanti vediamo piuttosto ecco vi segnalo un unicum davvero un busto con porta specchio arricchito nella sua valenza amatoria del cuore trafitto che è dipinto al centro dell'incavo che doveva accogliere quindi lo specchio. è una rara tipologia di oggetti tipica espressione proprio di cultura rinascimentale toscana e che a Montelupo trova degli elementi del territorio probanti di scavo come quel frammento che vedete che Berti data il 1520. Ecco a riprova della sua rarità vi pongo accanto i pochi esemplari che si conservano a Cuan e al Victoria and Albert Museum di Londra che credo siano un po' cronologicamente precedenti rispetto a quelli di Capodimonte e che mi pare invece quello di Capodimonte un po' più vicino ad altro porta specchio di un'antica collezione francese. Da Napoli dobbiamo passare direttamente alla Sicilia perché nel quadro meridionale delle raccolte pubbliche d'Abruzzo, di Puglia, di Calabria e di Sardegna nel nostro assaggiaggio non è emerso alcun materiale montelupino. Il nostro viaggio dunque si conclude a Palermo, il Banco di Sicilia nella sua collezione di maioliche dotata recentemente di cataloghi sono confluite collezioni storiche come per esempio la Ducro e la Russo Perez. Ecco di Montelupo figurano quattro esemplari, due albarelli con foglie o pigne di tipo floreale gotico e una coppia di brocche a palmetta persiana adattabili già a maturo 600. Dunque io sono arrivata alle conclusioni ma non voglio tirare le somme impiegando delle tabelle statistiche tanto di questo e tanto di quello. Le ultime parole invece le voglio riservare ad un pensiero e ad una considerazione che mi stanno a cuore. Un pensiero dunque rivolto a tutti coloro, i colleghi, i coltori della materia e sono molti di più di quelli che ho nominato e che quindi nominerò naturalmente nel contributo a stampa e che anche in questa occasione come in tante altre nel mio percorso di lavoro e di studio ecco dicevo con il loro contributo sempre generoso di conoscenze mi hanno confermato veramente affetto e stima. La considerazione infine riguarda la sfortuna accennata anche da Fausto della Maiolica di Montelupo da cui io sono partita e che effettivamente tranne le collezioni di Faenza si è anche un po' confermata in questo quadro italiano e specialmente per il sud. È condizione tuttavia che da 40 anni sta registrando una radicale inversione di tendenza ecco grazie appunto al lavoro condotto sul territorio sulle fonti d'archivio da parte del museo della ceramica la direzione il gruppo archeologico cui va ad aggiungersi però anche contemporaneamente diciamo pure la sensibile attenzione culturale sviluppata da alcuni collezionisti che sappiamo di Montelupo hanno colto l'importanza e il ruolo in seno alla Maiolica italiana dunque un enorme impegno di lavoro di passione dietro al quale anch'io mi sono incamminata per focalizzare dunque l'istoriato di Montelupo. Tanto sudore di tanti che compreso questo convegno sta sicuramente contribuendo a convertire la sfortuna in fortuna della ceramica di Montelupo. Dopo questo fondamentale impressionante viaggio nelle collezioni museali pensate che la signora che ho qui accanto oltre a conoscere queste cose Montelupine conosce anche tutto il resto. Io non so come abbia potuto ma insomma lo so perché è una potenza da un punto di vista dello studio e dell'impegno. Comunque la ringraziamo davvero per questa cosa. Io oltretutto confesso che diverse cose le vedo per la prima volta e mi sono anche preso per gli orecchi. A questo punto di vista ho manifestato la mia ignoranza nei confronti di tanta conoscenza insomma. Bene a questo punto tocca a Marino prendere questa realità e portarci in un museo importantissimo fondamentale per le collezioni ceramiche italiane cioè il museo del Baggio e credo ci voglia fare anche un panorama, stendere un piccolo percorso anche negli altri musei fiorentini se non erro. Sì, dopo la carme sarà dura però insomma ce la metteremo. Va bene. Allora, innanzitutto le parole che hai spesso sulla polemica sul caffagiolo così mi metterebbero però non si può. Non si può in questa sede magari chissà se finalmente verrà fuori questo volume sullo scavo che è 15 anni che aspettiamo. Anche perché ti trovo una notizia che mi hanno chiamato a collaborare, collaborerò anch'io. Sì, sì, lo so. E quindi speriamo magari sia l'occasione proprio qui a Montelupo di fare un altro incontro. Adesso occupiamoci di Montelupo. Il mio intervento si incentrerà su una campionatura di maioli attribuite o attribuibili a Montelupo e conservate nel museo e nelle raccolte di godimento pubblico di Firenze. Ovviamente per motivi di tempo non è possibile mostrare in modo esaustivo tutte le presenze fiorentine. Spero comunque che le immagini che mostrerò possano palesare l'interesse per le ceramiche di Montelupo da parte dei collezionisti e decoratori di musei a partire dall'Ottocento fino ad oggi. Voglio anche ricordare il recente successo riscosso da alcune maioli montelupine nelle due ultime aste tematiche tenutesi da Pandolfini a Firenze nell'ottobre dello scorso anno e poi i giorni fa, il primo di ottobre scorso. Ma adesso alcune note introduttive per meglio comprendere questa famosa sfortuna di Montelupo e delle produzioni locali che non è soltanto riferibile alla vicenda storiografica, quindi dal Settecento in poi, ma si vede agli antefatti anche nel Cinquecento. Per rimanere in ambito fiorentino, la ceramica di Montelupo viene raramente indicata negli archivi medici con l'indicazione d'origine, mentre appare spesso citata come stoviglie o lavori di terra. È invece ricordato e talvolta che è descritto, il vasellame figurato è a grottesche di Faenza e di Urbino e i cosiddetti lavori di maiolica, i raffinati vasellami allustri metallici prodotti nel Quattrocento nella Spagna musulmana e tanto richiesti sui mercati toscani. La trascrizione dei documenti è riportata negli scritti che Marco Spallanzani nel tempo ha dedicato alla collezione dei medici. Nell'inventario dei beni di Lorenzo il Magnifico si manzionano stoviglie di terra lavorata a Montelupo o Bella e nei registi della guardaroba di Ferdinando I nel 1596 vi sono nove fiasche di terra di Montelupo dipinte a modo di quella d'Urbino con armi di sua altezza serenissima. Probabilmente da riconoscersi nelle famose fiasche montelupine con stemmi medici come quelle conservate da Vittorio e Albert Museum di Londra al Museo di Faenza e raccolte private. Nei registi della spezzeria medici a Riboboli rimangono note per una fiasca di terra fiorita e rabescata a animali alti due terzi con sue armi nel corpo parte di medici e Lorena con collo stretto e quattro manichetti fatti a mascheroni. Inoltre orcetti di terra bianca con armi di palle davanti alti braccia uno in circa per ciascuno. Una misura, questa vedremo, quella del bacio fiorentino, del tutto compatibile con quella dell'orcio del Museo Bardini che più avanti vi mostrerò. Vengono inoltre menzionati altri recipienti con l'armi dei granduchi medici e delle loro consorti che molto probabilmente dovrebbero essere ricondotti alle fornaci di Montelupo. Più frequenti sono le citazioni nei documenti di nobili famiglie fiorentine e nonna che talvolta avevano proprietà anche nei pressi di Montelupo. Clarice Strozzi dei Medici nel 1518 ordina un fornimento di maioliche alla porcellana a Lorenzo di Piero di Lorenzo, il noto visore locale che appone la propria marca L.O. come abbiamo visto in alcuni esemplari presentati da Fausto e ne vedremo ancora. Nella casa di Jacopo davanti a Pisa, oltre a maioliche all'ustro di Valencia si trovavano nel 1480 anche catinelle, piatti grandi e piccoli, pentole, tegami, boccali, orcioli e albarelli di Montelupo. Presso una villa fiorentina di Cosimo Ruscellai nel 1504 è descritta una mezzina di terra con lavoro di Montelupo, quindi storiata, dipinta, insomma figure e due boccali con l'arme di casa, dell'arme appunto dei Ruscellai. Un esempio del tipo lo vedremo proprio nelle foto del Museo del Bargello. Prima di introdurre le immagini vorrei solo ricordare la consistenza dei nuclei ceramici riferibili a Montelupo presenti nei musei fiorentini che andremo a vedere. Al Museo del Bargello si contano circa 80 esemplari montelupini di cui 12-15 pezzi forse prodotti da quei vasai di Montelupo che lavoravano o che avevano bottega, che conducevano bottega a Firenze. A Palazzo d'Avanzati sono esposte 16 maioliche. Al Museo Stefano Bardini gli esemplari su festi delle famose raccolte di Stefano Bardini ne sono solo 6, mentre al Museo e Galleria Mozzi Bardini sono più numerose, li veremo poi. Al Museo di San Marco l'antica fornitura da farmacia conserva ancora 12 orcioli originali. Altri presenti sono alla Galleria degli Uffizi, alla Fondazione Scienze e Tecnica, alla Fondazione Carlo Marchi, al Museo Orne e ancora in altre istituzioni. Ma adesso passiamo alle immagini. Ecco, la prossima. Ecco, iniziamo con Montelupo. La prossima ancora. Ecco, questo non sono un pazito, non sono certamente i morioli di Montelupo, però ho queste immagini per mostrarvi alcuni esemplari dei superstiti raccolta medicia, che consisteva in centinaia di esemplari figurati, ma che alla fine del Settecento furono dispersi quasi tutti in una memorabile vendita, quella del 1772, dove furono appunto alienate settemila pezzi fra maioliche italiane, ceramiche spano-moresche, porcellane, medici, cinese, giapponesi, buccheri, messicani, etruschi ed altri esemplari ancora. Le maioliche superstiti della collezione medici arrivano al Bargello già dall'apertura del museo nel 1865, di cui quest'anno ci leviamo il centocinquantesimo anniversario. Sono circa 60 esemplari, per lo più di fabbrica Orbinati, e sono appunto superstiti di cui le dispersioni si sono susseguite nel tempo dal XVII al XVIII secolo. Tutte quelle che vedete in queste immagini sono di fabbrica Orbinati, escluso il piatto centrale in basso con Perseo e Fineo, che è della fabbrica di Affagiolo. Però tutti vengono, come ho detto, dalle collezioni medici. La prossima. Ecco, dopo gli ingressi di primi anni della formazione del Bargello, continuano gli arrivi sia dalla Galleria degli Uffizi, come il bellissimo medaglione unico, medaglione in Porcellana Medici con l'immagine di Francesco I che arriva dai magazzini degli Uffizi nel 1881 e poi arrivano tramite acquisti e donazioni altre ceramiche importanti, come il bacile di Porcellana Medici, acquistato da Castellani negli anni 1880-1890, più sotto il bellissimo piatto di Xanto, figurato con Giuseppe e la moglie di Putifarre, della donazione Harrand, donata appunto al Bargello nel 1888, e accanto uno dei tre tondini di Affagiolo che Emilio Costantini aveva offerto al Bargello e stranamente ne sono stati acquistati due e uno è stato restituito. E quello che ancora nella sua pubblicazione indica come i depositi del Bargello, purtroppo nei depositi non c'è, è stato restituito all'antiquario, al famoso antiquario Emilio Costantini. Fra le maioliche arcaiche, per avviare un po' una sorta di cronologia nel percorso, non si registrano esemplari Montelupini o Fiorentini, ma solo esempi di ceramiche di area orvietana o viterbesi. Unica eccezione sono i resti di un pavimento smaltato proveniente dall'abadia fiorentina di Firenze che ho fortunatamente ritrovato prima che venisse disperso come nettezza, diciamo, e però è probabilmente stato realizzato a Firenze in una fornace in occasione dei rifascimenti arnolfiani della badia della fine del XIII secolo. Passiamo alle successive. Ecco alcuni esempi di zaffera conservati al baggello, in alto a sinistra un bellissimo orciolo della donazione di Luigi Pisa con questi due cani addossati, rampanti addossati, che fa copia con l'altro superbo esemplare con due volatili affrontati. Un piatto con un profilo di un personaggio e a destra è l'ultimo entrato proprio grazie a un collezionista privato al baggello dopo averlo acquistato all'asta di pandolfini del primo ottobre scorso. È un unicum, io penso, perché ci sono raffigurati due animali di due specie diverse, solitamente siano orcioli, boccali, albarelli, le coppie di animali sono della stessa natura, quindi si può trovare due leoni, due pantere, due volatili, ma mai due animali di specie diverse. E sulla zaffra logicamente il discorso sarebbe ampio, testimonianze a Montelupo ce ne sono tante da scavo, però la tradizione ceramologica e gli studi continuano ancora a indirizzare verso Firenze, area fiorentina, Firenze in particolare e certamente bisogna notare che molti vasai di Montelupo e di Bacchereto, la località qui vicino che anche ha prodotto questo tipo di ceramiche nel corso del Quattrocento erano impiegati o conducevano botteghe ceramiche in Firenze come per esempio quella di Tugio e giunta di Tugio di Bacchereto noti per il collegamento con le zaffere e con gli orciola zaffera per l'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze e di fatti per questo rimane difficile talvolta operare una netta distinzione fra questi centri produttivi come avviene anche fra Montelupo e Bacchereto perché i vasai di Bacchereto immigrano a Montelupo per lavorare e adottano lo stesso linguaggio e in questi due centri adottano lo stesso linguaggio iconografico e lo stesso i vasai di Bacchereto come quelli di Montelupo si trasferiscono a Firenze quella successiva ecco un bacino di maiolica arcaica di area fiorentina probabilmente Montelupo che è arrivato a Bargello di recente tramite le donazioni di un collezionista illuminato Cesare Ucolini ha donato in più riprese varie opere ne vedremo alcune più avanti e un bellissimo albarello quello che prima veniva definito stile italiano-moresco e Berti decoro e azzurro prevalente comunque di ispirazione valenzana di imitazione valenzana sempre della prima metà del Quattrocento più avanti ecco un bel esemplare di zaffera di tricolore anche questa frutto della donazione di Cesare Ucolini questa è una tipologia molto pregiata che si rinviene in scavo molto raramente e spesso ridotto in piccoli frammenti solo il Museo di Montelupo ha un altro boccale di dimensioni notevoli è rinvenuto in scavo e in collezione privata un altro boccale della scollezione strozzi sarrati dove la completezza è apprezzabile nel suo insieme accanto un albarello sempre della prima metà del Quattrocento che abbiamo restaurato di recente più avanti ecco un utello da farmacia con il probabile insegno di un esercizio da spezzeria privato poi in alto una ciotola cosiddetta tipo bacchereto ma non veniva prodotta solo a bacchereto e questa è una denominazione così ormai è stato deciso questa di chiamarla così per riconoscerla ma veniva prodotta in larga scala anche a Montelupo e a fianco un piccolo boccale con stemma a Midei sempre della donazione Ugolini ancora e qui c'è un boccale con stemma ruccellai che ricorda si aggancia bene a quel documento che ho letto prima appunto della villa di Cosimo ruccellai dove comparivano due boccali con l'arma di casa ora qui mi verrebbe da dire una cosa però non mi posso trattenere su una battuta nel senso qui vedete le due le doppia B la marca e certamente se ci fosse qui fra noi una persona che alcuni di voi conoscono certamente ci direbbe subito di chi è il il vasai ha firmato questa qui forse quel Bernardino Benedetto del Berna che ha prodotto un po' in tutta Italia però insomma vabbè questa è una cattiveria lasciamo perdere e in realtà è molto difficile poter riconoscere le marche dei vasai ne sa qualcosa anche Fausto penso quindi insomma veramente insomma un terreno minato ecco il bacile un importante bacile quattrocentesco con l'unicorno alla fonte e questo è un soggetto molto amato nel quindicesimo secolo che viene riproposto sia su dipinti incisioni e nelle tappezzerie anche appunto sulle maioliche sotto sotto vedete una piccola ciotola con carenatura esterna e con volatile e sopra un piccolo boccale che è marcato con una N capitale tipica marca montelufina e tipicamente montelufino è il modo di raffigurare questi uccelli oppure dei volatili come dei galletti con quest'occhio sbarrato insomma mi danno insomma tipo allucinato veramente e esemplare ci sono a Milano in collezioni private un po' dappertutto ecco sì sì probabilmente sì anche qui ecco sì mi ricordavo una anche qui ecco altre due ciotole con carenatura esterna del tipo di quello che si rinviene a Montelupo e anche a Bacchereto da notare che la ciotola in basso con il decoro a foglia di prezzemolo a Santa Fina ha la particularità di essere appartenuta alla collezione di Alessandro in Berte una collezione diciamo molto nutrita di esemplari ceramici che annoverava purtroppo anche diversi falsi e questa ciotola ha la particularità di conservare ancora il cartellino dell'esposizione del 1911 al Musee des Arts Decorative di Parigi dove furono esposti oltre 500 esemplari di questa collezione in Berte di Roma e poi accanto c'era un boccale a foglie a cartocciate va bene tipico di Montelupo sempre dalla donazione Ugolini questi due esemplari in basso e un piatto con la palmetta persiana di fase di prima fase perché siamo ancora alla fine del XV secolo con lo stemma di Mari e il bel piatto con un stemma partito saldiati medici anche se frammentario ho chiesto a Ogolini appunto di poterci lo donare perché mi sembra un documento importante l'avevi già pubblicato anche te mi ricordo sì nel quinto volume dove c'erano gli stemmi e lo stemma salviati no ritornerei su quello precedente lo stemma salviati forse cioè il piatto salviati medici è forse riferibile alle nozze fra Francesco salviati e l'audomia di Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici del 1502 come qualcuno che potrà che conosce la raldica fiorentina si accorgerà che lo stemma salviati è dipinto a rovescio da come lo è normalmente questo però non ci deve meravigliare perché così succede anche su una coppa di gubbio all'ustro uno stemma guicciardini salviati dell'ermitage di San Pietroburgo e su uno addirittura su uno stemma in pietra di un podestà di San Giovanni Valdarno nel palazzo di Arnolfo su uno stemma in pietra dove appunto lo stemma salviati appare rovesciato quindi probabilmente è una svista del pittore cose che succedevano ancora più avanti un piccolo boccale con decoro alla porcellana e stemma medici e la marca è quella di cui è stato anche avanti e accennato è la bottega di Lorenzo di Perro di Lorenzo la stessa del Rosso di Montelupo del museo un capolavoro del museo di Montelupo e la stessa grafia di questa di questa marca così come tracciata su questo boccale si ritrova sui documenti d'archivio con i pagamenti al vasaio Montelupino risalente a primi due decenni del Cinquecento più avanti ecco una bella targa circolare forse una targa di proprietà con insegna medici da datare per conto mio intorno agli anni trenta quaranta del Cinquecento poi degli albarelli a palmetta persiana e appena di pavone e a destra un superbo boccale anche questo siglato LO con emblema questa volta medici salviati quindi probabilmente da riferire al matrimonio fra Giovanni delle Bande Nere e Maria Salviati celebrato nel 1516 più avanti ecco un'oliera imbrograffito un piatto a nassi spezzati con una scacchiera centrale e un orciolo da farmacia probabilmente a palmetta persiana e in basso due begli esemplari di albarelli della farmacia con l'insegna della farmacia del vaso fanno parte della donazione pilliteria al bargello di 1996 di questa farmacia ne conserviamo anche altri due esemplari molto più piccoli a destra due boccali che provengono dalle forniture per l'ospedale Santa Maria Nuovo la gruccia è sintomatica della fornitura e probabilmente sono marcati Montelupi quindi la marca di una fornace monterupina e probabilmente venivano utilizzati per i regenti dell'ospedale del Nosocomio Fiorentino più avanti ecco due orcioli nel mezzo un piattino con le girali arance una coppa con le girali arance e due orcioli della farmacia di San Marco dell'Osservanza che Carme prima ha presentato sono tre qui non messi due soltanto tre testimoni superstiti di quel nucleo di 40 pezzi che dell'antica farmacia appunto di San Marco e come di San Marco passarono al Bargello nel 1867 gli altri sono ritornati al museo di San Marco nel 1916 appunto noi ne conserviamo soltanto tre pezzi con le soppressioni Leopoldine Napoleoni e poi le soppressioni degli istituti religiosi alcuni dei vasi molti dei vasi furono venduti ora si ritrovano all'Uvr all'Archisinnasio di Bologna come diceva prima Carmen frutto di uno scambio accelerato al museo di Faenza a Vittorin d'Albert di Londra anche in collezioni private più avanti ecco un grande urcio per vino per vinsanto proveniente sempre di Montelupro proveniente dalle residenze granducali poi una crespina e due utelli due di quattro utelli che abbiamo con stemma Medici Austria questi due sono datati 1617 1626 e hanno le tipiche grottesche di Montelupo più avanti ecco una campionatura degli Arlecchini non potevano mancare gli Arlecchini sopra tre Arlecchini due personaggi con un pallone dei cavalli di un cavaliere e sotto sempre della donazione di Antonio Conti fatta al Bargello nel 1884 un'importante donazione che consta di circa 300 esemplari ceramici due due Arlecchine un po' più inusuali diciamo due piatti figurati non Arlecchini due piatti figurati un po' più inusuali che trovano confronto anche con altri esemplari sia di collezione privata che in musei italiani questa sarebbe stata la presentazione del Bargello perché come vi ho detto abbiamo tanta maioliche attribuibili a Montelupo quindi insomma altrimenti si sarebbe esaurito soltanto con la presentazione del Bargello invece volevo inserire qualche altro museo magari meno conosciuto ecco questo per esempio adesso vi farò vedere alcune immagini relativi alle maioliche di Palazzo d'Avanzati ma devo premettere che siccome il museo di Palazzo d'Avanzati apre al pubblico nel 1956 come struttura pubblica quindi non vanta una tradizione secolare bisogna allora appunto per capire l'esistenza attuale piuttosto limitata di esemplare in Montelupini tornare un po' indietro per vedere le origini delle sistemazioni e degli allestimenti che si erano avuti all'inizio del Novecento con Elia Volpi proprio in questa antica dimora fiorentina Elia Volpi che fu un antiquario importante a Firenze era stato alle dipendenze di Bardini per alcuni anni e poi si mise a lavorare in proprio acquista il palazzo nel 1904 e inizia ad arredarlo il Palazzo d'Avanzati aprirà nel 1910 ai visitatori e nel 1916 e nel 1917 avverranno due grandiose aste a New York degli arredi appunto di Palazzo d'Avanzati e da qui nascerà l'interesse per i collezionisti americani e nasce proprio lo stile d'Avanzati e in America appunto mi ricordo sull'antiquario la rivista fiorentina degli inizi del secolo si diceva che tutti gli appartamenti della Quinta Strada volevano insomma in tutti gli appartamenti della Quinta Strada si trovavano sedie savonarole di tipo appunto quelle proposte in vendita da da Volpi o comunque arredi che richiamavano questo famoso stile d'Avanzati le due aste sono due successi vengono venduti di Grazie a tutti.